Deve essere sempre vivo il ricordo. Questa è una festa di tutta una nazione che si è riscoperta unita ed è stata capace di superare un periodo molto 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 difficile che aveva affrontato. Ecco, quello che deve rimanere vivo è quello spirito di unità e di voglia di ricominciare. Il tributo dell'Aquila alla liberazione dal nazifascismo fu pesante e duro, impossibile da dimenticare. I giovanissimi nove martiri aquilani trucidati il 23 settembre 1943, i caduti della Banca d'Italia, le vittime della strage di Filetto e di Onna, fucilate nel giugno 1944. Le tappe di una lotta per la liberazione e non per la libertà, come disse proprio a Onna l'ex premier Silvio Berlusconi nel 2009, costellate di sangue e dolore, oggi ricordate una a una da una fitta giornata commemorativa. È alla Villa Comunale che alle 10.30 si è tenuto l'omaggio istituzionale ai caduti della patria, con l'alza bandiera e l'esecuzione dell'imno nazionale e la lettura del messaggio inviato a tutta la nazione dalla ministra della difesa Elisabetta Trenta. Una lunga giornata di celebrazioni, non senza qualche assenza importante come quella del sindaco Pierluigi Biondi, che ha disertato le manifestazioni come pure fece l'anno scorso. Ha scelto invece di esserci il presidente della regione, Marco Marzillo, per dovere istituzionale, ha detto. Naturalmente ognuno portando la propria sensibilità, non nascondo il fatto che provenendo da una forza politica che sul 25 aprile ha spesso subito un'interpretazione unilaterale della storia e soprattutto una strumentalizzazione politica di questa storia alle sue normali riserve da esprimere. Ho nonni antifascisti e genitori dell'altra parte e quindi da questo punto di vista, come dire, l'ho vissuta sulla mia pelle. Questa storia controversa e difficile della nostra patria e penso che la comunità nazionale si debba ricostruire su un terreno di valori condivisi. Ad Ateleta Piccolo Comune dell'Alto Sangro la medaglia di bronzo al merito civile conferita dal presidente della Repubblica. Ad Ateleta, che si trova lungo la linea Augusta, durante il secondo conflitto mondiale fu distrutta completamente. L'esercito nazifascista lo occupò tutta e creò delle morti con inaudita ferocia. Mai dimenticare, il 25 aprile è simbolo della vittoria degli ideali della libertà e della democrazia che hanno spazzato via la dittatura. Così il messaggio dell'Ampi l'Aquila. A partire dal diritto al lavoro, naturalmente, e poi lo studio, e poi la libertà di espressione, e poi la giustizia sociale, e poi i diritti delle donne, e poi tutta la solidarietà di cui è impregnata la nostra carta costituzionale. È una battaglia da fare ed ecco perché oggi è ancora più importante.